Nella rete Open gli autori sono tanti, li potete leggere nel programma. Allora, sì, gli autori sono tanti e il titolo è molto più corto di quello dell'intervento precedente, quindi diciamo il titolo non lo devo spiegare, invece in realtà dovrei spiegare chi sono gli autori e perché sono così tanti. Gli autori che vedete sono tutti colleghi della nostra università, Università degli Studi di Bari e che provengono, come vedete, da vari dipartimenti, dipartimento di informatica, di matematica, un dipartimento del settore di medicina, dell'emergenza e dei trapianti di organi e poi c'è il personale del centro servizi di Ateneo per l'e-learning e la multimedialità del nostro Ateneo. Perché tutti questi autori? Perché quello che vi presentiamo è la nostra esperienza di realizzazione e distribuzione di MOOC nell'ambito del progetto EduOpen, di cui sicuramente ne avete sentito parlare, vedo qui qualcuno che ne fa parte, ma a beneficio di tutti dico qualche parola, anche perché noi siamo ancora in fase di avvio, quindi vogliamo pubblicizzarlo e quindi per chi non avesse assistito a nessuna presentazione del progetto insomma lo sponsorizziamo anche qui. EduOpen è una rete di Ateneo italiani in continua espansione che offrono MOOCs di livello universitario però aperti a tutti, cioè praticamente tutti i MOOC che noi offriamo e realizziamo sono aperti a qualunque tipologia di studente, infatti abbiamo avuto anche studenti diciamo in pensione, insomma ufficialmente in pensione. Sono previsti vari livelli di attestati o certificati, innanzitutto l'attestato di partecipazione che è quello che viene rilasciato a tutti coloro che seguono e completano tutte le attività ed è gratuito ovviamente, poi c'è il livello di certificato verificato che è quel certificato che viene rilasciato nel caso in cui il soggetto, l'utente richiede un certificato verificato però in questo caso deve andare a sostenere l'esame in uno dei centri NICE del Cineca, quindi il test finale d'esame presente nel MOOC lo deve realizzare alla presenza di qualcuno che certifica la sua identità e poi un terzo livello di certificazione che è quello dei CFU, i crediti formativi universitari cioè lo studente che segue il MOOC ed è iscritto ad una degli Atenei consorziati ovviamente sosterrà l'esame nella maniera tradizionale, quindi con una commissione e ovviamente c'è un protocollo di intesa tra i diversi Atenei che sono pronti a certificare l'acquisizione della competenza e ovviamente l'acquisizione dei CFU. Per tutti i corsi, inoltre, siccome questo progetto, oltre a vedere 15 Atenei italiani in collaborazione, prevede la collaborazione del Gare e del Cineca, per tutti i corsi è previsto anche un digital badge che viene rilasciato dalla piattaforma Bestro del Cineca ed è rilasciato a tutti coloro che completano e richiedono l'attestato di partecipazione. Quali sono i numeri del nostro progetto? Come vi dicevo, 15 Atenei, gli utenti attualmente sono più di 10.000 considerate che il primo giorno di questa conferenza, che è stato il 29 agosto, la prima web session alla presentazione dei numeri di Eduopen gli utenti erano circa 6.000 quindi nel giro di qualche giorno sono arrivati a 10.000 abbiamo 54 corsi, 54 mocs e 7 percorsi che sono invece aggregazioni di vari mocs che possono rappresentare percorsi di perfezionamento, master o percorsi di specializzazione. In particolare, quando ci siamo riuniti per le prime volte, avevamo concordato tra tutte le università di focalizzare la realizzazione dei mocs su alcune tematiche in particolare l'Università di Bari si è focalizzata sulle tematiche della relativa alla transizione scuola-università perché come abbiamo sentito anche in una presentazione precedente il discorso degli abbandoni dei ritardi e il percorso universitario è un discorso che affligge un po' tutte le università italiane quindi noi di Bari, in particolare nei corsi di laurea scientifici che risentiamo molto di questo problema abbiamo deciso di concentrarci su questa tematica e quindi abbiamo sviluppato, abbiamo deciso, programmato in realtà, di sviluppare quattro mocs di introduzione alla chimica, alla logica, alla fisica e alla matematica in più due mocs sono stati invece dedicati alla ricerca scientifica di ogni ateneo nel nostro caso in particolare abbiamo pensato di realizzare due mocs abbiamo raccolto anche, diciamo, in realtà la disponibilità di due grandi ricercatori del nostro ateneo che hanno vinto anche premi internazionali e abbiamo programmato di sviluppare due mocs il primo comprendere l'epidemia di abesità con il professor Giorgino e tutto il suo gruppo uno degli autori che sono tra gli autori del nostro articolo e l'analisi di immagini per la diagnosi precoce di patologie neurodegenerative nel caso specifico del professor Bellotti cosa abbiamo fatto attualmente? attualmente siamo riusciti a realizzare, a terminare, a pubblicare due di questi mocs considerate che l'università di Bari era la prima esperienza quindi diciamo abbiamo dovuto, siamo dovuti partire da zero e in ogni caso partendo da zero però siamo riusciti ad arrivare ad un livello qualitativo diciamo ottimale anche perché la rete 2open aveva deciso ovviamente di porre un limite un check sulla qualità dei mocs che si sarebbero realizzati quindi i due mocs che abbiamo realizzato sono stati pubblicati uno il 21 aprile e l'altro il 9 maggio la durata sono due settimane per l'uno e una settimana per l'altro e come vedete l'impegno è richiesto 10 ore a settimana per il moc della matematica e 5 ore per quello di comprendere l'epidemia di obesità qual è l'obiettivo del moc sulla matematica? l'obiettivo è quello di preparare, quello di venire incontro alle esigenze di transizione scuola-università quindi l'obiettivo è quello di preparare i ragazzi che si accingono ad iscriversi ad un corso universitario in particolare ad un corso scientifico a prepararli a sostenere il test di valutazione delle conoscenze iniziali quindi i destinatari appunto sono i ragazzi che si accingono ad iscriversi all'università l'organizzazione dei contenuti di questo primo moc la vedete nella slide, sono tre sezioni la prima sezione con 4 video lezioni, la seconda con 8 e la terza con 9 tutte queste video lezioni però sono accompagnate dagli appunti del docente appunti che non sono slide o appunti predefiniti ma sono esattamente gli appunti che utilizzati e realizzati durante la registrazione infatti in questo caso al contrario del caso del secondo moc la modalità di registrazione è stata quella live cioè praticamente abbiamo registrato il docente che scriveva sull'iPad i suoi appunti esattamente come normalmente fa in aula solo che in aula utilizza la lavagna e nel caso specifico del moc lo abbiamo introdotto all'utilizzo di uno strumento digitale tutte queste, in particolare le due sezioni logiche insieme equazioni e disequazioni finiscono, terminano con un test di autovalutazione perché la prima sezione è semplicemente una sezione di introduzione al linguaggio matematico e ai concetti fondamentali il moc termina con un test di autovalutazione finale che dà la possibilità ovviamente agli studenti poi di, se superato, di poter scaricare l'attestato di partecipazione nel caso invece del secondo moc sulla diabesità in realtà è un moc un po' più divulgativo ed è divulgativo perché vuole non solo rivolgersi agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria e di secondo grado e quindi anche in questo caso orientare nella scelta del corso di laurea ma anche a coloro che sono interessati al discorso di abesità prevenzione e anche trattamento terapeutico infatti tra gli utenti di questo moc online abbiamo scoperto che ci sono molti semplicemente malati di diabete o che hanno qualcuno in casa malato di diabete che speravano che si sono iscritti al moc cercando delle risposte o semplicemente delle informazioni in più anche in questo caso ci sono tre sezioni solo che le prime due sono informative e diciamo constano di quattro video lezioni l'ultima è una sezione in cui ci sono testi lavori scientifici per l'approfondimento quindi essenzialmente collegamenti ad articoli che trattano ciò che è stato presentato nelle video lezioni e poi un test di autovalutazione e anche in questo caso il superamento del test di autovalutazione dà diritto all'acquisizione del certificato e quindi del badge queste sono le due screenshot delle due tipologie di moc e come vedete nel primo caso quello della matematica abbiamo l'appunto del docente che viene creato in maniera dinamica mentre il docente parla e scrive si vedrà diciamo completarsi la lavagna nel secondo caso invece essendo più divulgativo e più diciamo discorsivo sono state utilizzate delle slide durata media delle lezioni sono circa otto minuti mediamente diciamo ci sono lezioni molto più brevi e ci sono delle lezioni molto più lunghe la visualizzazione del docente è fondamentale è stato uno dei diciamo punti fermi di eduopen e poi insieme la visualizzazione di slide o appunti allora i numeri i numeri vi dico che li ho aggiornati oggi eppure in realtà li avevo aggiornati anche due giorni fa perché come vi dicevo nel giro di pochi giorni c'è stata un'esplosione di iscrizioni ad eduopen in particolare quello che ho aggiornato è proprio quello è il numero degli iscritti al corso di matematica anche perché lo abbiamo utilizzato e lo abbiamo pubblicizzato tra i nostri studenti del corso di informatica e lo abbiamo diciamo pubblicizzato in occasione del test di valutazione delle conoscenze iniziali che si terrà proprio la settimana prossima quindi come iscritti abbiamo 341 iscritti abbiamo rilasciato 72 attestati e 18 hanno completato più dell'80% quindi in realtà sono in via di completamento del mock e i badge scaricati invece sono 41 perché ci sono 41 persone che poi sono andate su Bestra a scaricare e quindi a prendere il loro badge ci sono altri che evidentemente non lo hanno ancora scaricato o probabilmente hanno avuto qualche problema tecnico come sottolineato da qualche nostro collega comprendere l'epidemia di abesità invece ha avuto 216 iscritti con 63 attestati rilasciati dal punto di vista delle esperienze abbiamo un po' chiesto ai nostri docenti di raccontarci un po' la loro esperienza la docente di matematica in realtà diciamo ha sottolineato come era molto restia a partecipare a realizzare questo mock ma in realtà solo perché la sua precedente esperienza era un'esperienza di videoconferenza la videoconferenza è molto diversa da quello che è diciamo un modello didattico dei mock in più la cosa che diciamo ho riportato nella slide è molto più carina e che i primi 13 minuti di video sono costati più di 6 ore di lavoro perché insomma è stato impegnativo però poi si è divertita e ha ritenuto anzi mi ha mandato proprio un'email ieri dicendo che vuole terminare perché abbiamo in mente di continuare questo lavoro anche nel caso del secondo mock hanno avuto dei riscontri positivi sia dagli studenti che dal team di docenti attualmente sono in fase di sviluppo tutti gli altri mock pianificati che sono ancora diciamo alcuni sono pronti all'80% quindi siamo in via di pubblicazione e sono in fase di pianificazione diversi altri mock universitari anche multidisciplinari perché abbiamo fatto una call come centro ADA e quindi aspettiamo che i colleghi si candidino se volete maggiori informazioni il link di eduopen e i nostri contatti grazie grazie